Delusione Thomas Mann Devo riconoscere che i discorsi di quello strano signore mi avevano scombussolato tutto. E anche ora temo di non essere in grado di riportarli in maniera tale che chi legga rimanga colpito così come quella sera toccò a me. Forse l'effetto di quei discorsi stava tutto nell'accattivante franchezza con la quale uno sconosciuto mi apriva il cuore. Risale circa due mesi fa, la mattina d'autunno in cui in piazza San Marco quello sconosciuto per la prima volta attirò la mia attenzione. Nella vasta piazza gironzolavano qua e là solo poche persone e le bandiere sventolavano a una tenue brezza marina. La di fronte è il variopinto e meraviglioso edificio il cui profilo sontuoso e fiabesco assieme alle decorazioni decorate si stagliava netto e meravigliosamente luminoso contro un cielo d'un tenue azzurro. Proprio davanti al portale principale un'incredibile folla di piccioni si era raccolta intorno a una bambina che gettava in terra del mais ma ancora altri stavano accorrendo da tutte le parti uno scorcio di bellezza incomparabilmente lieve e festosa. Fu là che lo incontrai mentre sto scrivendo lo vedo ancora con straordinaria chiarezza davanti agli occhi. Era di statura appena media e camminava rapido e un po' curvo tenendo con entrambe le mani il suo bastone dietro la schiena. Portava un cappello nero e rigido un soprabito estivo di colore chiaro e pantaloni scuri a riga. Non so per quale motivo ma lo presi per un inglese. Poteva avere 30, 40 o anche 50 anni. Il suo viso con un naso un po' grosso e occhi grigi dall'aspetto pigro era arrasato alla perfezione. Le labbra erano costantemente atteggiate in un sorriso inesplicabile e un po' sciocco. Solo di tanto in tanto si guardava intorno con aria indagatrice inarcando le sopracciglia. Poi di nuovo si rimetteva a fissare il terreno e parlando tra sé e sé ridacchiava. Era così che misurava la piazza passo dopo passo. Da allora in poi lo osservai per tutti i giorni. Sembrava non occuparsi d'altro che di andare su e giù per la piazza dalle 30 alle 50 volte mattina e pomeriggio col bello o cattivo tempo sempre con il medesimo buffo contegno. La sera che ho in mente si era appena esibita una banda militare. Io sedevo a un piccolo tavolo davanti al caffè Florian. Alla fine del concerto la folla che fino ad allora fluiva lì davanti come onde del mare cominciò a diradarsi e lo sconosciuto con l'aria assente come d'abitudine prese posto accanto a me a un tavolo appena liberatosi. Il tempo passava. Tutto intorno la piazza diveniva sempre più quieta e i tavoli erano quasi tutti vuoti. Solo qua e là qualcuno ancora indugiava. Un silenzio maestoso regnava sulla piazza. Il cielo si era coperto di stelle e in cima alla facciata sontuosa e teatrale di San Marco si librava una mezzaluna. Leggevo il giornale dando le spalle al mio vicino e stavo proprio per lasciarlo solo quando mi vidi costretto a girarmi un tantino verso di lui. Se fino ad allora infatti non aveva dato segni di vita ecco che improvvisamente cominciò a parlare. «Era prima volta che venite a Venezia? Signore?» mi chiese in un pessimo francese. Poi quando mi sforzai di rispondergli in inglese riprese a parlare in un tedesco privo di inflessioni dialettali con una voce temo e roca che spesso cercava di schiarire con dei colpi di tosse. «Tutte queste cose le vedete per la prima volta? Corrispondono alla vostra aspettativa o forse addirittura la superano?» «Sono sicuro che non avreste potuto immaginarle meglio. Certo non dite nulla per farvi invidiare di più per sembrare ancora più felice. Certo!» Si ritrasse e mi guardò sbattendo le palpebre degli occhi e senza mutare quell'espressione inesplicabile del viso. La pausa che seguì durò a lungo. Senza sapere come sarebbe andata avanti quella strana chiacchierata mi apprestavo di nuovo ad alzarmi quando l'uomo si chinò bruscamente verso di me. «Sapete, amico mio, cos'è la delusione?» mi chiese con voce bassa e intrigante appoggiandosi con ambedue le mani sul suo bastone. «Non parlo di quelle piccole ordinarie che si provano per un errore o un insuccesso. Intendo uno stato d'animo complesso, generale, che si alimenta per tutto l'arco di una vita. Lo conoscete questo tipo di delusione?» «Sicuramente no. Io invece l'ho frequentato fin dalla prima giovinezza e mi ha reso solitario, infelice e anche un po' bizzarro d'umore. Non lo nego. Come potreste capirmi, amico mio? Chissà, però, se aveste la pazienza di ascoltarmi, solo per un paio di minuti. Tanto è una cosa breve, se posso dire così. Lasciatemi ricordare, sono cresciuto in una cittadina, presso la casa di un pastore, dove regnava una specie di ottimismo da eruditi, un ottimismo fuori moda, patetico, asettico, come quelle muralinde e pulite. Si respirava un'inconfondibile atmosfera di retorica da bacia pile, la retorica delle parole ultime, bene, male, bello, brutto, quelle parole che odio profondamente, perché responsabili delle mie sofferenze. Per me, infatti, la vita consisteva in sostanza di queste parole, perché non conoscevo nient'altro che le impressioni terribili e disincantate che suscitavano in me. Dagli altri esseri umani mi aspettavo divina benevolenza o diabolica perfidia. Dalla vita, invece, un'ammaliante bellezza o l'orrore. Così, una brama per tutto ciò mi riempiva il cuore, un profondo, ansioso desiderio di una realtà immensa, di qualsivoglia esperienza, di gioie grandiose e inebrianti, di dolori indicibili e terribili. Ricordo, amico mio, con tremenda chiarezza la prima delusione della mia vita e vi prego di osservare che non consiste nel venir meno di una speranza, ma nell'accedere a uno stadio di infelicità. Ero poco più di un bambino quando scoppiò un incendio nella mia casa paterna. Il fuoco si era propagato nascosto e maligno lungo l'angusto pianerottolo e anche le scale stavano per prendere fuoco. Fui io il primo a precipitarmi per tutta la casa e a gridare forte in tutte le direzioni «Al fuoco! Al fuoco!» Lo so e me lo ricordo bene. Queste parole mi tornano in mente nitide, ma nel contempo mi ricordo anche la sensazione da cui scaturivano, anche se allora non ne avevo una chiara consapevolezza. E così questo è un incendio, così lo sto vivendo. È tutto qui. Niente di peggio? Dio sa che non era stata un'inezia. Bruciò tutta la casa, scampamma a malapena dalla morte. Io stesso portai ben visibili sul mio corpo le cicatrici delle ustioni. Non sarebbe però neppure giusto dire che la mia fantasia aveva già delineato quegli eventi dentro di sé dipingendoli con tinte ancora più fosche. Eppure nel mio intimo albergava come un vago sentore una rappresentazione in forme di qualcosa ancora più terrificante a cui cospetto la realtà appariva squallida. Quell'incendio era stata la mia prima esperienza di rilievo, ma una speranza di cose terribili se n'era andata via con lei. Non abbiate timore che io proseguo a narrarvi le mie delusioni nei singoli dettagli. Mi accontento di dirvi che con te lo infelice nutrivo le mie mirabolanti attese di vita con la lettura di migliaia di libri, di opere poetiche. Ho imparato a odiarli i poeti che lasciano scritte le loro nobili parole su ogni superficie e intanto desidererebbero istoliare la volta del cielo con cedro affiorato dal Vesuvio. Ma ancora oggi non posso fare a meno di sentire quelle nobili parole come una frode o un inganno. Poeti rapiti in estasi mi hanno decantato la povertà della lingua. È povera dicevano e invece no amico mio la lingua è ricca a mio parere esageratamente ricca in paragone alla miseria e alla limitatezza della vita. Il dolore è suoi confini quello fisico nello svenimento quello psichico nella pazzia e con la gioia non accade diversamente. La necessità umana di comunicare però ha inventato dei suoni che traghettano la menzogna al di là di questi confini. Mi si addice tutto ciò l'influsso di certe parole può lasciare su di me qualcosa come un segno una sorta di premonizione di esperienze che poi in realtà non esistono. Mi sono affacciato sul palcoscenico della vita tutto animato dalla brama di un'esperienza una sola forse ma che potesse corrispondere alle mie grandi aspettative. Che Dio mi aiuti non me ne è toccata in sorte neanche una. Ho girato tutte le più famose contrade della terra per trovarmi di fronte a quelle opere d'arte dinnanzi alle quali l'umanità inanella le sue danze di nobili parole. Ci sono stato infine e poi mi sono detto meraviglioso ma non c'è nulla di meglio è tutto qui non ho il senso delle cose reali questo forse spiega tutto da qualche parte nel mondo mi trovai davanti a un abisso stretto e profondo le pareti di roccia erano nude e verticali sul fondo il fragore dell'acqua che scivolava via sulle pietre guardai giù pensando cosa cadrebbe se mi ci buttassi ma avevo esperienza sufficiente da rispondere nel caso lo facessi direi a me stesso nel cadere stai precipitando questo è quanto ma cos'è poi veramente mi credete se vi dico di aver vissuto abbastanza ad avere un minimo di voce in capitolo anni fa amavo una donna una creatura dolce e gentile che avrei condotto per mano in tutto il mondo proteggendola da ogni cosa ma lei non mi amava non era di strano era un altro a proteggerla esiste forse esperienza più dolorosa c'è forse qualcosa di più penoso di questo tormento atroce malignamente frammisto alla concupiscenza ho vegliato con gli occhi sbarrati per lunghe notti e il pensiero più triste più tormentoso di ogni altro era questo è il grande dolore lo sto sperimentando ma cos'è poi veramente è necessario che vi parli anche delle mie gioie già perché anche la gioia ho vissuto e anch'essa mi ha deluso ma forse non c'è bisogno di raccontarli questi esempi banali che non dicono a chiare note ciò che la vita è nel suo complesso un incedere mediocre noioso e squallido questa è la vita che mi ha deluso 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 che cos'è l'uomo scriveva il giovane Werther il cosiddetto semidio non gli vengono meno le forze proprio nel momento in cui egli maggiormente ne necessita e quando si esalta per una gioia o sprofonda nel dolore non viene forse proprio in quei casi ricondotto a forza a quell'opaca fredda consapevolezza per cui si sente di perdersi nella pienezza dell'infinito ricordo il giorno in cui per la prima volta scorsi il mare il mare grande vasto il mio sguardo spaziava lontano dalla spiaggia nella speranza di essere liberato laggiù in fondo però stavo all'orizzonte perché ho un orizzonte dalla vita avevo atteso l'infinito forse il mio orizzonte è più angusto di quello degli altri uomini l'ho già detto non ho il senso delle cose reali o ne ho forse troppo presto forse non ne potrò più la farò finita fra breve conosco la gioia e il dolore solo nei dettagli più minimi nelle condizioni più infinitesimali non lo credo e non credo neppure agli uomini credo solo a quei pochi che al cospetto della vita si ritrovano nelle nobili parole dei poeti tutto è falsità e menzogna avete mai notato signor mio che esistono uomini così vanitosi e così bramosi della stima e della nascosta invita degli altri da dichiarare di aver sperimentato solo le nobili parole della gioia e non quelle del dolore fa buio ormai e anche voi non mi ascoltate quasi più e allora per l'ennesima volta voglio riconoscere che un tempo anch'io tentai di mentire a costoro per erzermi a uomo fortunato davanti agli altri e davanti a me stesso ma sono passati così tanti anni da allora che quell'orgoglio è andato distrutto e io sono solo infelice e anche un po' bizzarro non lo leggo la mia occupazione preferita è guardare il cielo stellato di notte non è forse il modo migliore per sfuggire al mondo e alla vita mi si può perdonare che continui a ideare progetti per vedere finalmente avverato almeno qualcuno dei miei desideri e che sogni una vita liberata in cui la realtà sbocci dalla speranza senza il residuo tormentoso della delusione una vita in cui non ci sia più alcun orizzonte tutto ciò lo sogno e intanto attendo la morte ne conosco così bene la morte quest'ultima delusione ecco la morte dirò nel mio ultimo istante ora lo sto vivendo ma cos'è poi veramente si è fatto freddo sulla piazza signor mio sono in grado di accorgermene le auguro ogni gioia dal profondo del cuore addio